Zio, guarda, questa app ti rende più vecchia. Ancora di più. E con questa ti cambia i capelli. Ma sono carino così, eh. Aspetta, prova questa, di qualcosa. Mi piacciono queste app, le scaricherò tutte. E tu invece la conosci, questa app si chiama Immuni. Fa vivere più tranquilla te e chi ti è vicino. Immuni ci segnala se siamo entrati in contatto con una persona positiva al Covid. In quel caso dobbiamo contattare il nostro medico. Così evitiamo i focolai e proteggiamo i nostri cari. Wow! Sì, ma perché questa app funzioni? La dobbiamo scaricare tutti. E allora la scarico subito. E poi avviso mamma e papà, avviso gli altri zii, avviso il mio fidanzato, poi avviso... Mi raccomando, scarica anche tu l'app Immuni. Più siamo e meglio stiamo.